poi dopo due giorni buttare l'altro quando premere non esce niente perché limone dura quella no fantasello piccolo qua ti metti dentro del limone o anche l'arancia l'arancia limone giri devi girare fino al fondo apre il tappo premere qui esce il succo senza semi quando c'è là il pisciolino a casa fai limone pesce quando cucinare il cane al forno fa limone al cane buonissimo il cane è caldo con limone il tappo lo metti nel frigo dopo dici anni e limone ancora buona però il cane morto il frigo rotto e limone ancora buona perché c'è il tappo e l'altra qui numero due insieme c'è giù c'è giù c'è giù quella lì numero due per fare le patate quella le metti dentro la patata poi spin e fai avanti spin e vai avanti entra la patata spin e vai però devi uscire dall'altra parte dalla patata se ce la fai se ce la fai lì va il manico qui lì va porre il ferro l'altra parte lì ma non tira devi svitare la patata perché la patata non si tira la patata si svita qui la fanno fritta nell'olio perché escono i due se non vuoi far fritta fanno il forno quel pollo e sta il pollo quella patata quella è negro africano quella è la polla milanesi per lo salvino e non voleva il pollo nero esplosare la polla bianca tu capito qui metti carne intorno salsiccia ripiena sennò infiliare la carota dentro la patata guarda bene non ti ricordi più carota le mettono così dentro la patata e fai le carote insieme con le patate al forno col cammello con il cammello col pollo il pollo patata al forno puoi cucinare carota insieme con patata essa qui quella numero due perché uno uno fare il succo del limone anche l'arance uno fare la patata guarda numero tre è qui qui c'è anche il video su youtube a casa vuoi vedere youtube spiegazioni in youtube c'è anche l'assistenza mi chiami io vengo a casa se metti dentro la patata a gira uno due tre quattro cinque e il dito metti questo non devi sbagliare il dito metterla e vai così vengono la patata zucchina citrioli qui una panella amela fino a domani se vuoi esci pure la sera ma la puoi fare la decorazione la puoi fare la chips apre il tassello così vengono chips mi ama non mi ama mi ama non mi ama mi ama non mi ama non mi ama se voi pulisce anche l'orecchio spinne un po' giro e esce il cervello se c'è se non c'è non è colpa mia è quella così è quella tutti insieme qua costano 10 se prende due 15 perché è roba rubata al vaticano vaticano